In questo periodo nelle campagne della bassa bresciana stiamo assistendo a dei veri e propri scempi ambientali. Centinaia di alberi lungo le rive vengono potati in modo scorretto se non totalmente abbattuti anche senza necessità e questo comporta un pericolo per la biodiversità. Potare in modo consapevole è però possibile se non doveroso. Basterebbe solo un po' di pazienza e buona volontà seguendo l'esempio degli agricoltori del passato come ci spiega Mario Caffi, ornitologo, che si sta prendendo cura anche per motivi di studio di una riva nella frazione Motella di Borgo San Giacomo. Questo è un taglio particolare che ho fatto io e che facevano una volta con le ceppaie. All'inizio sappi che questa zona era tutta abbandonata, io l'ho ripresa inizialmente ho messo dal salice che fa prima partire, fa prima fare l'impatto verde, poi piano piano sto cambiando tutto, sto mettendo il sambucco, sto mettendo il platano e qualche robinia per farlo diventare un'area verde, un piccolo gioiello. La ceppaia lì, vedi, io ho tagliato quello grosso e l'ho lasciato i due getti per l'anno prossimo. Quei due getti lì tra due anni li taglierò, lascerò un altro getto, continua così. Se la pianta ha dei problemi, è piegata perché il vento, il temporale, io ho tagliato delle piantine, però erano pericolanti, perché lì c'è una strada comunale, era pericolosa, ho dovuto eliminarle, però le altre se sono tenute bene, se il taglio è regolare ogni 3-4 anni non succede niente. Abbattendo un albero sparisce anche il nido che un uccello aveva costruito gli anni precedenti, un danno anche per i nuovi arrivi. I benefici di una potatura consapevole sono quindi enormi. L'anno scorso ho avuto quattro nidificazioni importanti, addirittura di due uccelli che vengono dall'Africa trans-sahariani, come la verla piccola e la tortura salvatica. La ceppae apporta alimentazione, sai quanti insetti e quanti larve che ci sono all'interno e poi anche i picchi e altri uccelli vengono a alimentarsi sulle ceppae. L'uccello di solito, lui guarda l'ambiente. Se quella tortura salvatica che è venuta l'anno scorso, la verla, si ricorda questa riva, ritornerà ancora qui.